Prima di iniziare a guardare il video iscriviti al canale e metti mi piace. Spunta un interessante aggiornamento per il periodo tra Natale e Capodanno. Sta emergendo l'ipotesi di un'incombente ondata di freddo, capace di abbassare drasticamente le temperature e persino portare la possibilità di neve a quote molto basse. Da diversi giorni, il comparto russo e parte della penisola scandinava stanno sperimentando un deciso raffreddamento, con valori che scendono notevolmente sotto lo zero termico. Una massa d'aria gelida, secondo l'ultimo aggiornamento meteo del modello americano GFS, sembra inclinata a muoversi inizialmente verso l'Europa orientale e successivamente in direzione dell'Italia, anticipando un calo delle temperature a partire dal 21-22 dicembre. Questo flusso freddo e instabile potrebbe concludere la sua corsa nel bacino del Mediterraneo, immergendosi direttamente dalla porta del Rodano, generando la formazione di un ciclone. Se le previsioni si concretizzassero, ci troveremmo di fronte a una fase di freddo-maltempo con impatti diretti su molte delle nostre regioni. Attenzione, poiché considerando le temperature particolarmente basse che potrebbero caratterizzare l'Italia in quel periodo, la neve potrebbe fare ritorno anche nelle pianure del nord e a quote basse nelle regioni del centro. Naturalmente, vista la distanza temporale, è prudente rimanere cauti, poiché la configurazione atmosferica potrebbe subire significativi cambiamenti. Tuttavia, sembra che le condizioni atmosferiche siano propizie a tale scenario.